E allora è partita l'ultima gara di giornata, 10.000 metri a punti per la categoria Signores Nascide. E allora vediamo il passaggio di meno 49 con il suono della campana ed è subito Di Stefano che si porta in testa del gruppo Cosmono Ane. Punti di meno 48, 3.50, 2.97 di Stefano Angeletti. Ora è Lorello in testa al gruppo. Campana di meno 47, anzi è Brotto, l'atleta della polisportiva Bellusco, ma ora è Davide Libralesso che si porta avanti. 3.50, 5.97 quindi Di Stefano Libralesso. Continuo cambio di posizioni, campana di meno 45, ora è Bramante in testa al gruppo seguito da Lorello, punti di meno 44, 2.76, 9.64, quindi Bramante e Lorello. Campana di meno 43, intanto sono stati dei contatti in testa, 2.97 a Bonito. Punti di meno 42, 2.76, 3.50, quindi Bramante e Di Stefano. e ora squadra di Bellusco cerca di organizzare un treno alla campana di meno 41. 2.76 a Bonito, punti di meno 40, 2.76, 9.64, quindi Bramante e Lorello. Seconda munizione per il 2.76, entra in diffida. Punti di meno 38 al passaggio. 3.50, 2.76. Punti di meno 36 e Matteo Barisomno 605. e 6.26 Fioretti, li alzano nell'azione, che viene rilanciata da un atleta dell'Olimpiade dei pattinatori Siracusa, campana di meno 35, al passaggio saranno i punti di meno 34, 6.54, 6.54, 2.76, quindi Mallorca Roberto. campana di meno 33, campana di meno 33, ammunizione per il numero 350, punti di meno 32, 9.64, 9.64, 2.76. 9.64, 2.76. al passaggio saranno i punti di meno 30, 2.76, 350, quindi Bramante e Di Stefano, campana di meno 29, con Di Stefano ora in testa, seguito poi da Bramante, poi gli atleti di Bellusco. 2.97 entra in diffida, il 2.97 entra in diffida. punti 3.50 e 276, ammanito il 5.97, campana di meno 27, ammanito il 5.97, campana di meno 27, punti di meno 27, punti di meno 26, 2.76, 350, Bramante e Di Stefano, campana di meno 25, è Mallorca che lancia l'azione, ed è Mallorca l'atleta dell'Olimpiade Tattinatori Siracusa, punti di meno 24, 654, 350, Mallorca Di Stefano, continua nella sua azione Mallorca, vediamo da dietro, campana di meno 23, prima eliminazione a meno 15, la prima eliminazione sarà a meno 15, intanto punti di meno 22, 654, 276, Maiorca Bramante, e riparte l'atleta dell'Azzurra Pattinaggio Barison, alla passaggio al campana di meno 21, punti di meno 20, 605, 276, Parisona Bramante, e ora è Angeletti che lancia l'azione, passaggio di meno 19 per Parisona, ed ecco noi, punti di meno 18, 605, 9 e 70, a meno 15, a meno 13 la prima eliminazione, e intanto campana di meno 17, entriamo nei punti, punti di meno 16, 9, 8, 8, 3, 50, e la Cammini, l'atleta della Menzana, campana di meno 15, dell'atleta del Musco che lancia l'azione, prima eliminazione, prima eliminazione a meno 9 intanto, punti di meno 14, 2, 7, 6, 3, 50, quindi Bramante e Di Stefano, ed è ancora un atleta della Menzana che rilancia l'azione, a passaggio campana di meno 13, a passaggio campana di meno 13, ed è Cannoni, in testa, punti di meno 12, 9, 8, 8, 3, 50, Cannoni di Stefano, allunga in testa, Cannoni, vediamo se dietro il gruppo reagisce, campana di meno 11, ancora in testa, Cannoni, quindi di meno 10, 9, 8, 8, 3, 50, ammunizione per il 2, 7, 6, eliminazione in corso a meno 9, 9, 8, 7, fermarsi, e intanto Cannoni ancora in testa, 9, 8, 7, ai punti di meno 8, poi 2, 7, 6, 2, 7, 6, ancora Cannoni in testa, poi Bramante, Di Stefano, eliminazione in corso, a passaggio di meno 7, 5, è l'atleta che deve fermarsi, numero 5, 2, 7, 6, squalificato, 376, squalificato, punti di meno 5, erano 9, 8, per 5, 5, 9, 5, non c'è l'eliminazione, e intanto è il mio, anzi è Fasolo, in testa, al passaggio di meno 5, e siamo nei punti di meno 4, prima Fasolo, ascolto Nicola Venezia, 5, 9, 5, 9, 6, 4, questi punti a passaggio, eliminazione in corso, ora eliminazione, a passaggio di meno 3, 9, 9, 8, fermarsi, intanto Fasolo, va ai punti di meno 2, 5, 9, 5, 9, 70, questi, i punti di meno 2, a passaggio, campana per l'ultimo giro, ultima volta, finish up, e allora vediamo lì, sul mezzo livello, 9, 7, 3, eliminate, bravo Vazzo, l'ultimo passaggio, 9, 70, 6, 2,